Grazie a tutti. E' il ghiaccio a forma di pinguino. Il ghiaccio a forma di pinguino. Il pinguino a forma è ottimo, vedete, perché è facile da togliere. Molto facile da togliere, data la sua forma, e da sgranocchiare. Abbiamo il nostro amico surfa. Abbiamo in macchina, come vedete. E' proprio lui. Ah no, forse è Exo. Questa è una prova di green screen, molto rudimentale. Così anzi. O 2. no Grazie a tutti Il negozio è emotivo No perché c'è una comparsa, c'è una ragazza che è veramente una maiala